Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio porta a porta, Euromedia Research su Rai 1, nella trasmissione di Bruno Vespa. Fratelli d'Italia al 28,3 perde lo 0,7, il PD perde lo 0,3 al 19,2, i 5 Stelle fermi al 16,8, la Lega guadagna lo 0,5 al 9%, Forza Italia guadagna lo 0,4 al 7,7, Azione Calenda guadagna lo 0,2 al 4,2, Verdi sinistra al 3,5, Italia Viva 3,1, più Europa con Emma Bonino 2,6, per l'Italia con paragone 1,5, noi moderati 0,4, altri partiti 3,7%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.